buongiorno a tutti qui arduino schienato dai arforex.com e in questo video voglio mostrarvi come si può settare la propria piattaforma di trading attraverso l'analisi multi time frame come potete vedere qui ho la mia piattaforma di trading che utilizzo praticamente sempre poi posso collegare ovviamente questa a pro real time o praticamente lo stesso setup ovviamente se avete un portatile e volete avere un setup perfetto dove riuscire a capire diciamo la struttura in maniera molto rapida di un mercato che ovviamente avete analizzato precedentemente questo ritengo sia uno dei setup migliori come potete vedere mantengo i mercati principali che utilizzo sopra e poi ho il il mio setup con il grafico giornaliero a sinistra e grafico settimanale a destra cosicché anche durante le varie giornate quando faccio l'analisi serale quindi quando mi trovo in end of day a fare il mio classico chart of the day come lo chiamo io per poi la giornata successiva andare a vedere se fare trading o meno riesco ad avere subito la picture settimanale che è fondamentale è vero che noi possiamo anche ricordarci perché pianifichiamo il tutto ce lo scriviamo e quindi difficilmente lo dimentichiamo ma nel momento in cui giornalmente vado a vedere subito il grafico daily meglio sempre avere un occhio come si può notare qui sulla destra in questo caso del grafico settimanale quindi riesco a capire in effetti fin da subito la macro picture del mercato quindi se c'è una tendenza che tipo di tendenza c'è in questo caso per esempio sull'euro dollaro abbiamo una tendenza long riusciamo a vedere per esempio se ci sono degli input da parte dei prezzi e se vengono corrisposti ovviamente da dei livelli o da dei movimenti di swing da della volatilità anche sul settimanale che sapete è il nostro train frame di riferimento costante quindi quando e se volete fare un tipo di metodologia di trading come la mia quindi che va a dare importanza diciamo che crea le fondamenta proprio sul grafico settimanale e poi sul daily tra virgolette time frame di brevissimo per noi ci cerca l'entrata è perfetto perché in questo modo non vi riuscite cioè riuscite sempre a capire che tipo di figura c'è quindi non vi lasciate diciamo trasportare da quello che solamente magari vi può dire il daily quella sera ma avete sempre molto chiara la figura settimanale perché ce l'avete perché con questo tipo di setup che potete inserire nella piattaforma lo vedete per forza quindi qualsiasi mercato in questo caso adesso ho messo l'euro dollaro ma potrei prendere anche non so la sterlina ecco qui che vedete ho tutto segnato addirittura posso mettere i livelli che poi vengono corrisposti dal grafico daily e so che tipo di dinamica c'è che tipo di struttura voglio vedere che tipo di trigger possono essere più interessanti per esempio se ho una struttura che è diciamo only long nella mia nel settimanale a quel punto magari valuterò con più attenzione i segnali shorti trigger short nel daily contrariamente se ho una struttura chiaramente long e quindi vuol dire che siamo vicini a un swing low che il weekly ci ha fatto vedere ripartenza insomma ci sono tutte le caratteristiche della struttura che vogliamo vedere e il daily ci conferma con un chiaro trigger long beh è ovvio che in quel caso io posso andare a fare sicuramente un trade confermato appunto dal mio trigger settimanale quindi questo è molto interessante ovviamente se poi nell'ufficio o nella vostra stanza dove fate trading avete la possibilità del multi monitor potete anche optare per inserire un grafico daily da una parte grafico settimanale dall'altra nel caso io di specie ho cercato di farvi vedere la possibilità per chi magari usa un portatile oppure siete in giro e usate portatile io per esempio nella mia stanza d'ufficio o comunque più monitor ma ho comunque il portatile che quando sono in giro ho sempre un setup e questo è il setup che utilizzo principalmente e che devo dire mi fa trovare proprio a mio agio nell'ottica di fare trading questo e poi volevo concludere con vedete nel momento in cui avete tutto poi ho distinto anche qua sopra il weekly plan e daily trading cioè qui mi metto tutte le cose diciamo le analisi weekly qua guardo giornalmente e soprattutto in questo caso su posizioni ordini si può andare a cliccare e li rimangono esclusivamente le posizioni e gli ordini pendenti quindi senza avere come dire una senza metterle qui nella stessa casella ma avere una una casella apposta come questa che vi mostra esclusivamente le posizioni in atto se ci sono e gli ordini pendenti se ci sono comunque al massimo se non avete né posizioni né ordini sarà vuota la casella ma avete un click da fare e li entrate esclusivamente sulla parte appunto delle posizioni degli ordini quindi tutto ben settato questo per farvi capire come nell'impostazione di fare trading meglio sempre avere anche nella nella parte più tecnica quindi la piattaforma avere un'impostazione che ci può aiutare a migliorare il nostro operato se come me usate il multi time frame in questo caso settimanale daily è importantissimo ripeto perché ha subito chiarezza nella nell'esposizione dell'informazione grafica cioè io vedo il daily ma ho subito il settimanale e poi le posizioni e gli ordini così voglio andare a vedere solo quelle clicco lì e vedo solo quelle senza andare magari avere più confusione nella piattaforma direi che per oggi è tutto questo voleva essere un video un po più di supporto a chi spesso mi chiedete no come imposti la piattaforma dove metti i grafici come metti il daily rispetto a settimanale i quattro ore dove lo usi eccetera eccetera questa è la mia impostazione impostazione per portatile e per un monitor solo ovviamente se avete più monitor potete fare come dicevo prima la doppia quindi daily e settimanale bene anche per oggi è tutto spero che vi sia piaciuto questo video mettete un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti grazie grazie grazie